Malik, è un gioco difficile, è un gioco difficile, è finito con un gioco di gioco. Il team è felice con questo punto o non? Sì, non è un gioco facile, soprattutto nella prima parte, non è così facile. Abbiamo fatto molti errori tecniche. Se guardate il gioco tutto, credo che dovremmo riuscire il gioco. Quindi è un po' difficile, perché vogliamo più. E se guardate, soprattutto nella seconda parte, potremmo fare più. È un po' difficile adesso, perché la squadra voleva sicuramente di più. Ci sono stati un po' troppi errori, però ci sono anche state tante occasioni, per cui probabilmente avremmo potuto anche strappare una vittoria. Ora la table di Champions League ha avuto due punti dopo due match. Abbiamo due gioco difficile contro la PSG. È un gruppo open, ma è molto difficile, è molto challenging. Sì, ovviamente, ma se vedete anche i risultati di oggi, credo che tutto è possibile. Ma abbiamo una qualità, e lo abbiamo mostrato anche nei due gioco. Abbiamo solo bisogno di finire i gioco meglio. Sì, e credo che siamo ancora più felici dopo il gioco. Tutto è possibile, dobbiamo semplicemente finalizzare meglio le nostre giocate. E tutto è ancora possibile, possiamo assolutamente passare il turno. Ora, l'ultimo gioco, prima l'internazionale. È importante recuperare l'energia e tornare a Serie A. Sì, esattamente. Dobbiamo recuperare velocemente e fare il nostro meglio per giocare il miglior gioco in Genoa. Grazie Malik. Ci ha detto che ovviamente adesso è tempo di recuperare e ributtarsi sul campionato. Grazie.